E adesso invece torniamo in Italia, nelle Marche, dove la situazione è certamente ben diversa, ma per fare il punto sulla situazione dei profughi abbiamo con noi in studio l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. Buonasera Aguzzi, grazie. Buonasera Marco, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, quanti sono i profughi presenti in questo momento nella nostra regione? Allora, a ieri Marco, la situazione esatta, perché poi avrò un incontro con la prefettura ancora domani, a ieri pomeriggio passati ufficialmente attraverso le questure, quindi censiti e autorizzati a rimanere nelle Marche con permesso di soggiorno, erano 2350, quindi un bel numero. La cosa strana di questo tipo di ospitalità di arrivo è che queste persone, per la stragrande maggioranza, arrivano sapendo già dove andare, quindi non arrivano inviati magari da un centro di accoglienza o dalla protezione civile nazionale, ma arrivano con mezzi propri o con mezzi messi a disposizione da alcune associazioni, con il treno, sono arrivati anche con un volo aereo a Falconara e hanno già quasi tutti il luogo, diciamo, dove essere ospitati. Tendenzialmente sono famiglie private, magari chi ha la badante ucraina ha fatto venire la sorella, oppure un parroco che è amico con un parroco polacco ha organizzato un pulmino, o tante anche associazioni disseminate sul territorio. Ripeto, questa è un po' un'anomalia perché di questi 2350 che hanno ottenuto il permesso di soggiorno tramite le questure e le prefetture, ovviamente, solo 150 sono ospitati nei centri di accoglienza gestiti, diciamo, dalle prefetture direttamente. Ecco, attenzione, però è importante, credo, in questo momento fare chiarezza su un aspetto, Assessore, ed è anche il motivo per cui l'abbiamo invitata, cioè queste persone vanno regolarizzate. Ci può spiegare meglio? Sì, uno dei problemi, infatti, di questo flusso è questo, perché, ripeto, noi ci aspettavamo e ci eravamo anche predisposti un flusso organizzato, tipo un indirizzo di tutte queste persone nei vari paesi europei e di conseguenza poi una ripartizione per regioni. Quindi ci aspettavamo un flusso coordinato dalla Protezione Civile Nazionale. Non sta avvenendo, sta avvenendo un flusso spontaneo, chiamiamolo così, disseminato in un'accoglienza diffusa sul territorio. Però la cosa importante è questa, quando io prima dicevo 2350 persone passate attraverso le questure e quindi hanno avuto già il permesso di soggiorno, sono già stati inseriti nella circuitazione ASUR, quindi per il tampone Covid, se hanno bisogno di altro tipo di assistenza e così via. Sono convinto, ma sappiamo che ci sono questi casi, che alcune persone, forse anche più di alcune, sono presenti sul nostro territorio, ma non sono tra quei 2250, ma non sono ancora stati portati, diciamo, a regolarizzarsi in questura. Questo è molto grave, perché intanto sono persone che provengono da un paese estero, extracomunitario, quindi sarebbero, tra virgolette, in senso adesso buono, clandestini in Italia, se non regolarizzati. Ma poi senza aver avuto visite mediche, nulla, qui non sono vaccinati Covid, tendenzialmente in Ucraina, quindi la cosa più importante è, uno, appena arriva l'ospite, si va in questura, si fa tutta la certificazione dovuta, si riceve il permesso di soggiorno, si viene inseriti nel circuito Azure, che entro 48 ore vengono a farti, o vengono, o ti dicono dove andare, a fare il tampone. E se ce ne fosse bisogno, a volte ce ne è bisogno, anche altri tipi di visite, bambini che magari hanno altri sintomi di altre malattie e così via. Questo è fondamentale. Se non si fa questo, ripeto, si tiene in casa un, tra virgolette, clandestino, che potrebbe anche essere sempre, tra virgolette, positivo al Covid, o non si sa. Di conseguenza la cosa prioritaria è portare queste persone subito in questura ad essere regolarizzate. Poi si entra nella rete di accoglienza diffusa. Per il momento, però, un altro neo, se vogliamo, di tutto questo, questa rete diffusa di accoglienza ad oggi non prevede un ristoro a favore di chi ospita, delle famiglie, quindi le associazioni le parrocchie che ospitano. Anche se, sia io come assessore regionale delle Marche, quello dell'Emilia Romagna, ma anche altri assessori di altre regioni, abbiamo già chiesto da diversi giorni, e continueremo a chiedere da diversi giorni alla Protezione Civile nazionale e al Ministero degli Interni, di prevedere ristori a favore di chi ospita. Perché un conte è qualche giorno, un conte è una settimana, ma nel medio, o non so se sarà lungo periodo, poi queste persone avranno difficoltà a continuare a ospitare queste persone e magari in quel caso potrebbe esserci un esodo di rientro dove magari le prefetture stesse e la stessa Protezione Civile avrebbero difficoltà a far fronte. Allora, secondo me l'ideale sarebbe avere dei ristori verso le famiglie che ospitano. Chi invece non ha spazio o posto per essere ospitato nelle famiglie e arriva con mezzi più o meno di fortuna, in maniera non coordinata, come Protezione Civile regionale stiamo facendo dei contratti con degli alberghi in giro per le marche per poter mettere a disposizione delle prefetture le stanze che servono. Abbiamo già cominciato da oggi, domani continueremo, secondo le esigenze che le prefetture ci faranno presente. Ma ad oggi, ripeto, sono minimali, perché ad oggi l'ospitalità avviene attraverso diciamo così l'ospitalità di famiglie, di parrocchie, di associazioni che sono meritorie di questo, però vanno in qualche modo accompagnate. Una battuta al volo, Assessore, avete stimato, avete una stima di quanti potrebbero alla fine essere questi profughi qui, quante ne potrebbero ancora le loro? Allora, ad oggi in Italia si parla di circa 50.000. Se noi valutiamo che questo paese ancora è in mezzo a una guerra tremenda e non so, speriamo che finisca tra un minuto, ma se ancora non terminerà e proseguirà, io dire quanti ne potranno arrivare non so, ma a minimo raddoppieranno, dico minimo, anche perché oltretutto in Polonia, che se ne stimano due milioni, fino adesso anche lì c'è stata questa ospitalità diffusa, ma io non escludo che ci possa essere qualche flusso pilotato all'interno dell'Europa che magari ripartisce quote per nazioni e di conseguenza poi per regioni. Sinceramente quello che ci aspettavamo non è ancora avvenuto, vediamo se questa ospitalità diffusa sarà sufficiente ad accogliere tutti oppure se dovremo coordinarci, però sotto questo punto di vista indubbiamente siamo pronti e da ieri abbiamo cominciato a contrattalizzare stanze in albergo per mettere a disposizione di chi le prefetture ci fanno presente meritevole di ospitalità. Bene, grazie dunque all'assessore regionale della protezione civile Stefano Aguzzi per questo puntuale quadro della situazione. Adesso noi andiamo avanti.